Una vicenda sicuramente singolare, quella scoperta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, che nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica ha individuato tre persone, tutte residenti a Napoli, truffatori seriali che vendevano polizie assicurative per auto false. L'attività, partita da una querela presentata da un cittadino dell'entroterra Piceno, è stata incentrata verso l'oggetto del contendere, una polizza per auto, la più classica delle assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile, per la quale lo stesso aveva corrisposto all'importo richiesto di 232 euro versandolo su una carta del tipo ricaricabile, risultata poi intestata ad un trentenne di Napoli. Nessun ricorso da parte della vittima ad assicurazione dal nome dubbio o sconosciuto, spesso trappole, che promettono consistenti risparmi. Anzi, la compagnia prescelta era stata una di quelle tra le più note di affidabilità e, come da copione, aveva provveduto anche ad inviare il certificato assicurativo e la relativa documentazione. Tutto falso però, la mara scoperta è arrivata nel corso di un controllo di polizia su strada, allorquando l'originalità del predetto tagliandino assicurativo è stata disconosciuta dagli agenti, in quanto non presente nella banca dati ufficiale dei veicoli circolanti. Sulla scorta della querela presentata dal malcapitato, le indagini sono state incentrate verso la carta ricaricabile del trentenne napoletano e di quelle, ulteriori, rilevate nel circuito delle polizze assicurative della stessa compagnia, risultate alla fine 23, di cui alcune estinte ed altre invece bloccate per uso scorretto. Persone per lo più gravate da pregressi precedenti per truffa proprio in relazione all'emissione e alla vendita di polizze false in diverse località del territorio nazionale. Alla luce della potenziale moltitudine di persone truffate dalla specificità dei precedenti di polizia degli intestatari delle carte ricaricabili sono state tuttavia analizzate attentamente dalle fiamme gialle, anche con l'ausilio dei militari del comando provinciale di Napoli, che hanno intrapreso l'attività di approfondimento di ogni singola operazione. Veniva così acclarata la prima responsabilità penale nei confronti del trentenne di Napoli, che aveva incassato 232 euro e a seguire quelle di ulteriori altre due persone, sempre partenopee, denunciate quindi alle locali autorità giudiziarie. Le indagini consentivano di identificare anche una platea di vittima delle truffe, giunte alle false compagnie di assicurazioni, attraverso canali internet e social network. Sono stati gli ulteriori accertamenti della polizia economico-finanziaria a rilevare il riconoscimento in capo al trentenne di Napoli ad altre sei persone, anch'esse tutte partenopee e coinvolte a diverso titolo nelle indagini, della misura di sostegno del reddito di cittadinanza. Per tutti e sette i soggetti è scattata la denuncia alle autorità giudiziarie in relazione a 55 mila euro già indebitamente percepiti, che, grazie alle successive azioni di recupero, torneranno nelle casse dello Stato. Ammonta quindi a 36 mila euro l'importo del reddito di cittadinanza già riconosciuto ma non ancora riscosso dal gruppo, ora bloccato grazie alle iniziative delle fiamme gialle picene, che provvederanno anche a segnalare i connessi danni erariali alle corte dei conti e sul fronte fiscale, a considerare i profitti illeciti per l'assoggettamento a tassazione. Ad oggi sono migliaia le carte relative alle istrutture del reddito di cittadinanza presentate nella provincia di Ascoli Piceno, già al vaglio della Guardia di Finanza.